Oggi volevamo parlare delle infiltrazioni ecoguidate che si fanno quando il paziente ha un dolore o una malfunzionalità articolare del ginocchio. Queste infiltrazioni non sono assolutamente dolorose, si fanno quando il quadro è un quadro di artrosi moderata e soprattutto quando il paziente viene perché non riesce a muovere più un'articolazione o ha un forte dolore al ginocchio. Il miglioramento si ha dopo 2-3 settimane, i farmaci usati sono assolutamente innocui, si usano di solito gli steroidi o gli acidi ialuronici. Questi cicli si ripetono dopo 6 mesi, non sostituiscono sicuramente l'intervento chirurgico ma migliorano sicuramente il dolore e in certi casi i pazienti che hanno problemi per affrontare un intervento chirurgico potrebbe essere una soluzione importante per migliorare la loro quotidianità. Le articolazioni che si usa più frequentemente per fare le infiltrazioni sono l'anca, la spalla, il ginocchio e la caviglia. È importante che nella manovra di infiltrazione siamo sicuri che il farmaco entri all'interno dell'articolazione. È abbastanza facile nel ginocchio, meno facile è essere sicuri di essere in articolazione nell'anca e nella spalla. Quindi si può usare l'ecografia che è lo strumento molto semplice, non doloroso, che aiuta il medico e il paziente quindi ad essere sicuri di essere all'interno dell'articolazione. È molto semplice, si usa un puntatore, bisogna stare attenti alla sterilità, non dà assolutamente dolore al paziente.